Questo è il nuovo modo di comunicare. Rimanire connessi ai ragazzi è fondamentale e bisogna adeguarsi al loro linguaggio. È lo stesso con mio figlio. Facciamo tutto con lo smartphone. Ci scambiamo idee, ci mandiamo meme, giochiamo e spaliamo delle compagnie di classe. Insomma, siamo un link costante, soprattutto tramite i games. Giochiamo sempre insieme, 24h su 24. È il top. E-gaming è l'unica ormai forma di insegnamento. Infatti i ragazzi imparano proprio tramite l'immersione nei games. E devo dire che funziona. It works.